Io ho voluto lanciare un messaggio che le competenze digitali non sono da concepirsi esclusivamente come competenze tecniche, che sono diventate parte integrante del modo di sopravvivere nella società dell'informazione e della comunicazione, ma sono ancora di più la forma con cui riusciamo a combinare in modo eccellente conoscenze, abilità strumentali e anche competenze relazionali che comunque maturiamo e sviluppiamo in tutti i contesti di studio, di apprendimento e di vita. Questo pone un grosso problema all'insegnamento in quanto tale, che non può più concepirsi come mira trasmissione, cioè non può più pensarsi nei modi soliti tradizionali, dalla cattedra legata ad un libro, legata alla memorizzazione, deve ripensarsi perché l'insegnante è obbligato a riorganizzare i contenuti della conoscenza da insegnare lavorando egli e facendo in modo che gli allievi lo percepiscano su reti di basi di conoscenza perché la disciplina non è più riconducibile al libro, al manuale, ad un sistema codificato che per decenni non cambia. Al contrario, la disciplina è costituita da nuclei, da programmi di ricerca, ognuno in competizione fra di loro in tutto il mondo, che produce tutta una serie di conoscenze, risultati, principi, eccetera, eccetera. Quindi l'insegnante è obbligato a navigare fra basi di conoscenza diverse, a farne rete significativa e a presentarla agli alunni affinché loro li utilizzino per rafforzare la propria capacità competitiva sul mercato del lavoro o comunque la propria capacità di navigazione entro le reti. Questo è il cambiamento profondo che sta avvenendo. Quali le linee guida per gli insegnanti per superare questo divario digitale? Intanto imparare a giocare con gli ambienti digitali. Prenderli meno seriamente di quello che pensino debbano essere e giocando praticarli molto. Non ridurre gli ambienti digitali esclusivamente alla chat o all'email, ma navigare dentro la logica che sta dietro ogni prodotto, ogni strumento, ogni nuovo modello di elaborazione digitale delle informazioni. E poi tornare a studiare in modo diverso da quello che hanno imparato a fare tanti anni o decenni fa. Studiare oggi non significa più mettersi a tavolino davanti a un libro, significa soprattutto navigare nei database bibliografici, che cominciare da Google, dalla interrogativa, poi andare ai database specializzati a cui è possibile accedere con degli abbonamenti non individuali ma istituzionali per esempio. Questo è possibile. E allora lavorando lì la loro stessa mappa di conoscenze comincia a modificarsi pian pianino e quindi cominciano ad aggiornare la propria capacità di rappresentare il sapere anche davanti ai loro allievi, stimolandole la curiosità, la voglia di scoprire, di navigare eccetera. Questo è digital competence. Oggi abbiamo parlato agli studenti degli istituti superiori, ma come si prepara l'università ad accogliere i nativi digitali? Beh, li ha già accolti perché i nativi digitali sono più bravi dei loro docenti universitari, molto spesso, nel trattamento e nell'elaborazione dei dati. Dovrebbe modificare tante cose l'università, tante. Probabilmente in questo momento l'università è talmente presa con i problemi di riforma ordinamentale e di struttura che questo compito verrà rinviato ad una prossima stagione. In realtà l'università vi si sta attrezzando quanto più essa si internazionalizza. Ecco, questa secondo me è la via regia. Quanto più i corsi di laurea o le attività didattiche e formative e gli stessi docenti si muovono in una prospettiva di internazionalizzazione del loro operato, tanto più questo porterà un rilevante contributo per accogliere tutti gli studenti già ormai digital competence. Quindi parole d'ordine, innovazione, creatività, internazionalizzazione per la scuola di tutti i livelli? Parole d'ordine, pensare il futuro in maniera inedita e avere il coraggio di trarne le conseguenze. Io ho paura che ci siano ancora forti resistenze gerontocratiche a questo compito. Grazie.